buongiorno buon lunedì come potete vedere una vista completamente vuota non c'è niente dentro vedete vedete che non c'è niente completamente vuota allora sempre vuota potete vedere da bollati su uova ok io adesso la piego la piego il pezzetto vedete adesso posso anche fare uno strappo volendo vedete la strappo anche ma attenzione soffio magico cosa fare dalla busta che era vuota cosa fare diciamo ciao